Benvenuti nel regno, io sono Piazza The Queen of the War e siamo ancora una volta su Titan Souls Sì, sempre i soliti vestiti perché da come avete capito mi sono fissata con Titan Souls oggi E niente, li sto registrando tutti di fila Nell'ultimo episodio abbiamo sconfitto il boss finale con ben 371 morti totali Ma, siccome mi sono fissata adesso con Titan Souls, quindi sopportatemi Sono andata subito a vedere su internet se esistevano boss, insomma, segreti, speciali, opzionali, chiamateli come vi pare E, indovinando un po', ne esistono 3 più 1 finale Quindi oggi andremo a farli, vediamo quanto ci metto, se riesco, vorrei fare tutti e 3 i boss opzionali in questo video E poi lasciarmi il super boss finale in un prossimo video Adesso vediamo E niente, vi faccio anche vedere dove sono Allora, come potete vedere, ragazzi, siamo al lab, tra virgolette, al lab principale E il primo si trova, come avevo, insomma, intuito nello scorso episodio Non mi ricordo quanti episodi fa Si trova nel labirinto Ok, siamo arrivati al labirinto, ragazzi, come potete vedere c'è anche il palino Quindi era ovvio che era qui Ma non era arrivata al modo, insomma, di trovarlo In pratica bastava seguire le porte con i funghi rosa Quindi qui ci sono i funghi rosa, ci entriamo Poi qua sopra ci sono i funghi rosa e ci entriamo E qui ci sono gli ultimi due funghi rosa e siamo arrivati al primo boss opzionale del gioco Il mega fungo Allora, vediamo un po' che cosa dobbiamo fare Ok, dobbiamo prendere bene il tempo di quando scende e spararli alla bocca, la bocca del fungo Esiste la bocca del fungo? Non lo so Probabilmente è così, insomma Vediamo di farlo in fretta, in fretta e furia Perché... no, no No Che volevo fare io oggi in un episodio? Tre boss Ah ah Senza, signor fungo Non mi rompa i funghi Oddio Aia Ero un attimo affascinata dai colori tipo funghetto allucinogeno Ok Molto simpatico questa cosa Allora Bene 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 E poi No L'ho mancato Ma tanto l'ho mancato, eh Una roba allucinante Aspettate, ma se io tipo colpisco le palle rose No No Dai, sono carichissima, regà Sono proprio carica Olè Uno Ecco Ah ah Certo Dai, assù Ho sconfitto l'anima Non puoi rompere le palle tu, fungo del cavolo Ok Non puoi rompere le balls You can't break the balls E put the like Hop 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 Sì L'ho detto Un po' di reppismo E si faceva Mamma mia Too much Forte Ha ha Hashtag Peonia Too much Forte Wow Wow Ma io che ho detto Ne facciamo tre Ma ne facciamo quattro No, monza, allarghiamo Però Mamma mia Funghetto è andato Andiamo al prossimo boss Mamma mia Quanto ci ho messo Tre, quattro morti Wow Incredibile Allora Vi faccio vedere dove sono gli altri due Praticamente Uscite Dal Dal labirinto Andate in giù In basso Scendete le scale Scendete di nuovo Le scale E poi andate giù 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 Ancora più giù Ancora più giù Ancora più giù E scendete nuovamente Le scale Ora qua non vi potete sbagliare Perché la strada è una sola Eccoci qua Siamo arrivati al cimitero Qui c'è l'altro punto di salvataggio Con gli ultimi due boss Vedete qui i pallini E andiamo subito a fare Il primo Salve Chi c'è qui dentro Yeah Ma lo possiamo svegliare Tipo uno snorlax Ole Allora che cosa ci propone lei Oh Mi sputa Bene Che cosa devo Colpire Uuuuh La schiena Ok Dobbiamo trovare il modo Di farla girare A questo punto No No Che cosa avevo fatto Che cosa avevo fatto No Ah Allora Entro a lui Ok Non è Non è così semplice Però possiamo fare Come ho fatto prima Lo Attacchiamo E poi li dobbiamo Sgusciare subito dietro Perché se no Lui si gira Allora Così L'avete visto Si è buggato Si era buggato Oh mio dio No Non possiamo farlo Dobbiamo farlo Con la freccia di ritorno Per forza Ma si bugga Una cifra Sto boss Mannaggia Dai che è facile Questo Su Dai No Devo richiamarla prima Olè Troppo 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 facile Troppo facile Ragazzi Troppo facile Questi boss opzionali Oppure siamo diventati Troppo farti noi Ragazzi Ma che ne dite Di fare una run In una Delle modalità Che abbiamo sbloccato Finendo il gioco Ora non so Nella modalità difficile Che cosa cambia Effettivamente Magari dobbiamo colpirli Due volte Non lo so Adesso mi informo Però io ve la butto là Facciamo una nuova run No Tanto non vi piace Italian Souls Non lo so Vedremo Allora Intanto Quest'altro è fatto E per l'ultimo boss Sempre da qui Dobbiamo costeggiare La montagna Vedete qui c'è questo spruzzetto di terra Vuol dire che qui c'è una strada segreta Adesso troviamo un po' la strada Dove è Quindi Diamo un po' di facciata ai muri Ok Eccola Eccola E abbiamo trovato L'ultimo boss Opzionale Cioè in realtà non è l'ultimo Perché c'è questo Più Insomma Il boss Finale Finale Quello finale davvero Wow Che belli questi affreschi Di cui io non ci ho capito Una mazza Che cos'è sta roba? Niente Seguo la strada Seguo la strada E siamo arrivati all'ultimo boss Che dovrebbe essere qui in giro Oh mio dio C'è pure un dialogo Hai trovato ciò che cercavi Che cercavo io? Hai ucciso la seconda divinità E la prima qual è? Quella che ha preso il mio posto What the fuck E ha creato I quattro guardiani Gli altri titani Ah gli altri titani Sono andati dalle anime perdute Ok Alcuni erano come te umani Mi mancava la convinzione Di uccidere Spaventata Beh è bello questo dialogo Ragazzi È bella anche Ok non riesco Ok di qua di qua Dicevo Bella anche questa mappa Non abbiamo dialogato Con nessun titano Fino adesso Mi pare È bello anche questo Questo murales Diciamo che Somiglia a una faccia Insomma Ok andiamo qui Bello bello Mi è piaciuto questo dialogo finale Bene Rampichiamoci sulla barba Sulla barba E andiamo Ah così? Wow non me l'aspettavo Vi giuro ragazzi Che non me l'aspettavo Bello Bello ragazzi Bello 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 Non me l'aspettavo sul serio Perché avevo visto giusto Più o meno dove si trovavano I boss Perché non riuscivo a trovarli E niente A questo punto Ci abbiamo messo davvero Poco 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 Diciamo questi boss opzionali Un po' Belli Sotto il punto di vista Della lore Insomma Ma Sul gameplay Un po' meno A questo punto Andiamo A uccidere il boss Super finale Che dite? Vi se lo abbiamo messo 5 secondi Allora ragazzi Sto tornando indietro Perché il boss finale Vero diciamo Perché il boss finale Era l'anima Che abbiamo Ucciso Lo scorso episodio Però questo è ancora Più finale Dobbiamo tornare appunto In cima alla torre E dovremmo entrare Nella porta Che era Dietro Al boss dell'anima E questa volta Siccome abbiamo ucciso Tutti i titani Dovrebbe essere aperta Ora Dico dovrebbe Perché non lo so Può essere Che ho detto Una cazzata Però da quello Che mi sono informata In giro È così Ok ragazzi Ci siamo quasi Siamo quasi arrivati Dai 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 Ok ragazzi Siamo arrivati Siamo in cima alla torre Vediamo se la porta è aperta Se no mi sparo Se non è aperta Andiamo Vediamo 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 Sì Sì Allora passiamo A battere La verità Ci ho emozionato Sono emozionatissima Ha cambiato la grafica Vedi truth La verità Oh mio dio Ha cambiato pure La grafica del boss Oh minchia Aspetta L'occhio Sarola Sarola L'occhio È palese È palesissimo Porca miseria Ah ok Mi ributta direttamente Qua dentro Ok 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 Dai Azzarola Questo Questo è tosto No Ok Aspettate Forse ci sono Ah Mi inseguono Mi insegue tantissimo Dobbiamo aspettare Che a terra E poi si ferma Quando a terra Che finisce di girare Mi so capire da sola Va bene Ah No No È tosto È tosto Questo raga È proprio tosto Allora Dai Hop Hop Niente No ma è per forza così L'occhio è rosa Devo trovare il tempismo giusto Per attaccare Non Sono tesa Sono tesa Regà Perché l'ultimo boss Veramente ho finito Davvero Dyson Souls Hop Da No Forse mi sa Più lontano Devo sa Che stupida A terra Prima quella di lato Oh Vai Ma se io l'attacco da così No Volevi Volevi Prima che inizi a girare Prima che inizi a girare Vai Perché sono tornata indietro Perché Perché torno indietro Non devo tornare indietro Se torno indietro Ma ciacca È normale Terra Eh vabbè Trappo lento il dash Ta Ta e ta Dovevo fare Ta e ta Ta e ta Avete capito Ta e ta Ta che ta E ta che ta E ta che Quanto sono tesa Quanto 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 sono tesa Allora Vai Dash Dash No Però ci sono Ci sono Dash Eh Ho sbagliato Ho sbagliato verso del dash C'è tempo Giù Di lato E dai Non è vero Non è vero Giù Di lato Sì Oh no Ancora no Oh porca miseria Ma che Aiuto Oddio l'occhio Sì Sì Alla prima Alla prima Alla prima Ancora No minchia Oh cavolo No Aiuto Che Cavolo Succede No 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 Devo solo colpirlo Devo solo colpirlo Non mi dire da capo Non mi dire da capo Non mi dire da capo No No Non ce la farò mai Riprende l'occhio Al volo Vabbè Giù Sì Di lato Di lato Why you Che deficiente Dash Eh vabbè No Sto dando di matto Non ce la faccio più Aiuto Ok 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 buono Ce l'abbiamo fatta Via I mostri No No Cazzarola Se n'è andato L'occhio Nine Concentrati Change 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 Ok Ormai Ormai La facciamo La prima Questo Ok Bene 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 Adesso Questo Dobbiamo Solo Solo Prenderlo Che deficiente Che deficiente Dai che ormai lo sappiamo fare Questo Siamo diventati troppo bravi A fare questo Dai Ok 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 Mamma mia Ho detto Che siamo diventati troppo bravi A fare questo Non è un codolo Dash Dash Ok Adesso ci sono I vermetti Ok In modo che S'attenti Perché i vermetti Escono comunque Ok Sono stupid Cioè io Non Non Boh 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 Come cazzo ho fatto a mancarlo Non c'ho parole Vaffanculo Curate Sono sempre gli stessi Vi è qua Occhio di merda Ci sono Ci sono Ci sono Dai Dai Ridammi la freccia Ma io gli devo sparare A quell'occhio Non devo scansarmi Non devo scansarmi Non devo sparare Perché è basso Quando mi Mi lancia il raggio E li so capita da sola Ok Bene Così Mettiti davanti Che lo vedi meglio Sto cazzo di occhio Sì 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 Finita O ce n'è ancora Oh minchia Che sta succedendo Che sta succedendo Ci facciamo Il nostro personaggio Nooo Bello Bello Lo abbiamo finito di nuovo Mamma mia Mamma mia Sono contenta C'ho un senso di 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 benessere Mamma mia Io spero davvero Che la serie Vi sia piaciuta Io non lo so Perché la registrai Praticamente tutti oggi Da metà serie In poi La registrai Tutti nello stesso giorno Spero davvero Che vi sia piaciuta Fatemi sapere Se volete Magari un'altra serie In un'altra modalità Sempre su Titan Souls Adesso mi informerò Su che cosa cambia Tra una modalità E l'altra Magari ne parleremo Anche in live Fatemelo sapere A me non dispiacerebbe Però comunque Ho tantissimi giochi Da portare Insomma Qualcosa da fare La troviamo Accimente Sbloccato 19 uccisioni Quindi abbiamo Ucciso tutti i boss 417 morti Oh mio dio Verità Testo tradotto Ah quindi Credo che adesso Se andiamo a rigiocare Il gioco I nomi dei boss Si vedranno Credo Non lo so ragazzi Finiamo ora qui E' finito Titan Souls Spero davvero Che vi sia piaciuto Se così fosse lasciate Tantissimi like Commentate Iscrivetevi Condividete il video Con l'universo E seguitemi Su Instagram Io vi aspetto qui Nel mio piccolo regno In un prossimo video Niao E' finito E' finito E' finito Spero E' finito E' finito E' finito